Gentili telespettatori, buona giornata. Anche questa volta la Boldrini viene mandata via da una piazza. Un'altra volta. Vattene, non ci rappresenti. Ma chi sei? Ma chi te conosce? Allora, la Boldrini si presenta sempre nelle piazze di protesta su diritti civili, eccetera, eccetera. Ma la sinistra non è più considerata una forza politica vicina a nessuno, a nessuno. È una forza politica arroccata nei palazzi del centro storico, del popolo non interessa nulla, di quelli che definiva gli ultimi. Quindi, una volta per la sinistra, gli ultimi erano gli operai tanti anni fa, quando l'operaio era l'ultima catena della... Ecco, erano gli ultimi volantinaggio presentissimi perché l'operaio era quello sfruttato dai potenti che tramite l'operaio si arricchivano. Poi l'operaio comunque è diventato classe media col tempo e la sinistra si è allontanata. Per la sinistra gli ultimi sono i clandestini oggi, non più gli italiani ultimi ma i clandestini. Una sinistra che si è allontanata dalle piazze, dalle fabbriche, dalle periferie. Si è ritirata, come quando c'è la siccità, si è ritirato questo mare di sinistra e adesso sta solo nei palazzi di potere. Una sinistra vuota, senza nulla, non c'è niente, c'è l'eco, no? Dov'è la sinistra? Istra, 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 e poi c'è l'eco in questa scatola vuota. Allora ci sono delle... tipo la Boldrini che si presenta nelle piazze, cosa che avrebbe dovuto fare la sinistra, ma quando solo qualche esponente si presenta in qualche piazza viene visto come un elemento estraneo. Così Laura Bordrini, ex presidente della Camera, si presenta di nuovo in un'altra piazza e ha raccolto una pesante contestazione da affiancare a quella già immessa in bacheca nella manifestazione che attaccavano la Meloni in modo preventivo sulla legge 194. Eh sì, hanno fatto una manifestazione contro qualcosa che non esiste. Dice perché, allora, a sinistra la gente vuole manifestare contro la Meloni ma non sa per cosa manifestare. Dice andiamo contro la Meloni, sì, ma per che cosa? Eh, eh, quindi, quindi, per che cosa? E non se lo inventano. Dice andiamo per difendere la legge 194. E poi uno dice ma perché? La Meloni ha detto che vuole cancellarla? No. Vuole modificarla? No. E allora cosa vai a difendere? Eh, vado a difendere. Capite che addirittura c'è una parte ideologica del paese che fa delle proposte, proposte, propeste, fa delle proteste contro qualcosa che non esiste. È la degenerazione della sinistra, no? Cerca lo scontro, cerca di protestare, ma non sa su cosa e inventa, no? Vede cose, parla con gente. E allora, la Boldrini era andata in questa finta manifestazione contro la Meloni su quello che la Meloni non pensa e non ha mai detto, no? Pensate un po' che roba... Cioè, una manifestazione contro qualcosa che non esiste, fantastico! E la Boldrini era stata cacciata da questa manifestazione contro qualcosa che non esiste. Oggi va a un'altra manifestazione ed è la stessa, identica cosa, una manifestazione sul rinnovo del memorandum Italia Libre, Libia sul fronte dell'immigrazione. Allora, anche qui, la sinistra va a protestare contro una cosa giusta. Vi spiego perché giusta. Il memorandum Italia Libia verrà poi sviluppato in un accordo molto più forte dove Italia e Libia si metteranno d'accordo nel impedire la partenza di clandestini verso l'Italia. Voi direte, ma come? Eh, in uno Stato si entra con i documenti, con i permessi per ricongiungimento familiare, perché si ha un lavoro. E questo, lo dico a tutti, e questo succede in tutti gli Stati del mondo. In tutti gli Stati del mondo entri con il passaporto e con delle motivazioni accettate dallo Stato ospitante. La clandestinità è illegale in tutto il mondo. Allora, l'Italia cosa farà adesso? Farà un accordo Italia-Libia. Intanto rinnoverà il memorandum, che è già un accordo molto più blando, ma andrà verso un accordo più serio per impedire le partenze di clandestini. E la sinistra, invece, è contro un accordo Italia-Libia. E allora io mi chiedo, scusate, signori e signore di sinistra che andate in piazza, ma qual è la vostra idea? Aprire le porte dell'Italia a tutto il continente africano? Perché non credo che sia una cosa né legale né che sia mai successa in tutto il mondo. Pertanto vai a una manifestazione a dire che cosa? A dire apriamo i confini, chi vuole entrare in Italia entri senza passaporto e senza permessi? Ma, dico io, ma si può andare a fare una manifestazione del genere? Ma si può andare a fare una manifestazione del genere? Mi sembra una roba assurda, assurda. La Boldrini si presenta in una manifestazione assurda e viene mandata via. Allora, prima viene mandata via da una manifestazione contro qualcosa che non esiste, contro la Meloni che voleva abolire la Centro... che non esiste. Oggi viene mandata via da una manifestazione che non ha nessuna logica, contro l'accordo Italia-Libia. Perché? Perché sì. Ecco, la Boldrini si presenta a una manifestazione senza senso e viene mandata via anche da quella. Il memorandum, come vi dicevo prima, è un accordo bilaterale che dà un freno parziale alle partenze dei barconi e che venne poi sottoscritto proprio dalla sinistra con Marco Minniti, esponente del PD di cui fa parte la stessa Boldrini. Quindi la Boldrini va in piazza per protestare contro il memorandum Italia-Libia fatto dal suo partito col ministro degli interni Marco Minniti. Capite che è tutta una roba che fa ridere solo raccontarla, no? Vabbè, tra i presenti anche tanti parlamentari, tra i quali anche Nicola Fratoianni, quello che andava a dormire sulle navi delle ONG, e poi abbiamo Allenda Verdi e Sinistra, ma alleanza saranno, Ellie Schlein e appunto Laura Boldrini. Quindi vanno a protestare contro... cacciata da una protesta contro se stessi. fantastico, è fantastico una roba del genere, fantastico. Insomma, poi c'è un video dove si vede proprio la contestazione a Laura Boldrini che gli dicono di andare via. Vai via, ma chi sei? Insomma, è così surreale, grottesco questa sinistra che... e fa ridere, dai, insomma, in maniera simpatica. Grazie a tutti e arrivederci.